Quando venga evidenziata la presenza di un occhio pigro è necessario assicurarsi se è presente un difetto di vista o uno strappismo o entrambe le cose che lo generano. In questo caso bisogna correggere il difetto di vista che è presente in quell'occhio ed eseguire una terapia riabilitativa che nella maggior parte dei casi si produce con l'occlusione dell'occhio buono allo scopo di far salire la visione dell'occhio cattivo.